Perché mia madre gli ha detto di questo paese di sanguinari lunatici? A me sembra assurdo che sia scappato. Non è da lui. Occhi aperti. I mostri terreni sono ovunque. Ah! 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 Non ci avrai! Ferma! Mostro! Oh, sono io! Oh, no! Mi sono venute le scaglie d'oca! Accidenti, sei una furia! Scusa, sono sulle spine. No, ne avevo bisogno. Ora sono più sveglio. Wow, che aspetto orrendo! Che schifo. Avanti, cerchiamo nostro figlio.